ah eccoci qua ragazzi allora quante finale abbiamo quante finale ci sono rimaste 7 che è questo numero così 7 7 finali dobbiamo vincere tutte allora con garcia non abbiamo mai fatto un filotto di tre partite consecutive a vincere mazzarri la stessa cosa con calzoni speriamo che questa sia la volta buona perché solo così possiamo risalire la classifica o meglio ci possono essere più speranze di risalire la classifica perché non è tutto scontato basta vincere tutte le partite fatte no non è fatta niente bisogna guardare anche le altre squadre comunque i risultati di wrecking uefa per l'italia si sono messi bene perché ci sono due italiane in semifinali di europa league e poi l'atalanta che ha vinto a hanfield al liverpool al liverpool contro il liverpool 3 a 0 vabbè ci sta l'atalanta sta in buona salute non per niente ha fatto 3 a 0 pure a san paolo a san paolo da dove è uscito su san paolo al maradona maradona diego armando maradona su san paolo mi è venuto perché lo senti dire da più parti no il rai soprattutto mi condizionano comunque mando a questo voi mettete like iscrivetevi a questo canale ma come lo aggirisci a questo canale poi viene a scrivere a caldo poca roba poca roba poca ciccia qua qua trovate il vero tifoso quello sanguigno quello che al di là di questo allora stavamo dicendo che stavamo dicendo di francesco allora voglio spiegare prima una cosa grazia è stato prima a roma e poi è venuto da noi spalletti è stato prima a roma e poi è venuto da noi di francesco è stato prima a roma e poi che lo sa se viene da noi vabbè si sa che gli allenatori gira 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 ma alla fine sono sempre quelli ogni tanto viene messo uno nuovo nel campionato comunque allora francesco questo è uno che è stato fatto suo comunque pure lui pratica un calcio comunque moderno è molto attento un 4 3 3 e che poi diciamo 4 3 3 ma molto non vuol dire niente perché poi si diciamo la posizione ferma possono partire 4 3 3 che voi li potete vedere come il calcio malillo praticamente no? con un bigliardino avete presente il bigliardino con le stecche ecco che sono così ma poi durante il gioco questi si muovono capite? e viene tutta la cosa così movimentata un po di movimento capite? come se fosse una danza caraibica come vi devo dire quello va avanti quello va dietro quello copre due al posto suo quello va avanti e quello va indietro è tutta è tutta la fisarmonica e poi stanno sempre strette cose e adesso che devo stare qui a cincischiare i numeri e cosa no? allora tornando a Napoli Frosinone comunque sold out capite? tutti allo stadio bella sta cosa che dobbiamo dare la spinta come dico io sempre io la forza la spinta della forza Napoli capite? oh andiamoci a sentire di Francesco che ho fatto già troppe ghiacchie vai di Francesco vai facci niente che ci devi fare parlo parlo e facci capire che vuoi fare ma o dopo domani dopo domani domenica si gioca domenica a pranzo mamma mia a mezzi ore a mezzogiorno a mezza praticamente praticamente ci può rimanere noi stiamo ancora col boccone sullo stomaco e questi già gioca ma quando mai a Napoli si mangia a mezzi ore a Napoli si mangia alle due si mangia all'uno massimo proprio a esagerare all'uno già stava il piatto a tavolo ma di solito l'una e mezza due ecco questo è l'orario quindi praticamente sto quasi per finire il secondo tempo comunque vabbè a parte sta cosa qua dai andiamoci a sentire Eusebio Eusebio vai 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 Eusebio vai devo dire che mi ha anticipato sul coraggio è un aggettivo che avrei voluto utilizzare per questa gara che è importantissimo ed è quello che c'è anche un po' contraddistinto come squadra in generale ovviamente cosa si vuole? si vuole l'equilibrio? si vuole il coraggio? è un insieme di cose che bisogna saper dosare nel modo giusto noi è quello che dovremmo fare in questa gara molto delicata molto importante dove loro devo dire che le ho rivisti veramente bene nell'ultima gara di Monza dal punto di vista sia fisico ma anche di riconoscere un po' quelle giocate che le hanno contraddistinti in questi ultimi anni percora sarà una partita difficile ma il coraggio ce ne vuole per affrontare queste gare per cercare di portare a casa un risultato positivo e noi ce lo dobbiamo mettere assolutamente il concetto di compattezza e il concetto di avere questo equilibrio di squadra che stiamo tra virgolette avendo in questo momento e riconoscere che non sempre possiamo essere belli nella ricerca di certe giocate di quello che abbiamo fatto anche in precedenza ma sapere che cominciano a contare veramente tanto le partite e i punti per quello dobbiamo abbassare il margine di errore tantissimo e alzare tantissimo l'attenzione contro certi giocatori, contro certi campioni non te lo puoi permettere e devo dire che Napoli sarà una partita difficile sicuramente differente da quella di Coppa sia per la situazione loro ma anche per la nostra venivamo da momenti differenti e nello stesso tempo insomma c'erano anche altri allenatori ogni partita ha sempre una sua storia va al di là del discorso di Coppa però loro ci tengono a guadagnare più posti in classifica come noi ci teniamo a guadagnare i posti in classifica per ottenere il nostro obiettivo che è la salvezza per quello sarà una partita che l'equilibrio sarà fondamentale nelle due fasi però un pizzico come stavamo dicendo prima anche di coraggio contro certe squadre bisogna avercelo perché il rischio di essere schiacciati poi diventa prima o poi un'arma letale contro di noi ma noi abbiamo vinto a Napoli mi sembra giocando un 3-4-2-1 1-2 che sia per quello lascia un po' il tempo che trova in questo momento il sistema di gioco lo ribadisco per l'ennesima volta l'interpretazione sì che fa la differenza i principi da portare avanti durante la gara è ovvio che voglio cercare di dare continuità sicuramente cercherò di apportare delle modifiche in base anche alle caratteristiche degli avversari come hai detto tu prima è fondamentale capire chi sia davanti capire che sia un centro avanti che ti attacca alla profondità penso che sia uno dei più veloci della Serie A da questo punto di vista per quello dobbiamo avere grande attenzione anche alle forti individualità che hanno conosco molto bene l'allenatore che è stato il mio vice so la sua militarità l'attenzione che mette nei particolari e noi dovremmo avere una grandissima attenzione nei particolari sempre di più ne ho parlato tanto nell'ultimo periodo sia quando sono venuto in conferenza che di alzare il livello di attenzione nei particolari lo sto facendo ancora di più questa settimana contro una squadra che ha nelle caratteristiche individuali dei giocatori che possono da un momento all'altro decidere la partita parliamo di Zerinsky pure parliamo di giocatori che hanno di Raspadori che può entrare lo stesso Simeone il Napoli ha un parco giocatori lì davanti che può fare veramente la differenza un momento all'altro e noi stiamo lavorando nella direzione di cercare di limitarli il più possibile ma nello stesso tempo mettere un po' di coraggio nel cercare di andare a fare male a questa squadra perché deve essere nel nostro DNA non dobbiamo perdere quella che è la nostra voglia di poter fare attraverso delle pressioni attraverso il gioco attraverso quello che vogliamo però dobbiamo cercare di metterli in difficoltà se no se li lasciamo troppo il pallino in mano del gioco con grande continuità alla lunga facilitiamo la loro grande forza tutto può essere un'ipotesi l'unica cosa che abbiamo così vi dico sicuramente abbiamo non avremo a disposizione per la partita sia Monterisi che Rui che ancora non ha recuperato del tutto dall'infortunio che ha avuto e c'è Bonifazi che si è allenato in questa settimana solo i primi giorni della settimana l'ultimo periodo è da valutare domani la sua disponibilità e la sua convocazione per quello tutto quello che tu mi hai chiesto sarà in divenire non posso dare indicazioni è normale che ci vuole anche un pizzico di esperienza all'interno di una gara ma ci vuole anche la gamba per andare ad affrontare perché quando poi ti attaccano gli spazi non è che li puoi tenere per la maglia li devi correre dietro per quello il concetto di pensare che i vecchi possono risolvere i problemi di una squadra difensiva è un errore grande io credo che sia un grande supporto dal punto di vista sia della capacità di affrontare certe gare della conoscenza dell'esperienza poi esistono anche le qualità fisiche e la condizione fisica che deve essere importante all'interno di una partita migliorare lo dicono anche i numeri questo che tu stai dicendo è un'osservazione che si lega realmente a quello che abbiamo visto in campionato ma credo che invito sempre questi ragazzi a preparare al meglio le partite perché al momento in cui poi si entra si può diventare determinanti anche in questo senso abbiamo lavorato ma è più un aspetto mentale questo dove si approccia alle partite cercando di farsi trovare già pronti e di essere dentro alla partita immediatamente è una qualità una qualità che col tempo siccome ci sono dei giocatori nella storia che sono stati ottimi giocatori giocando entrando a partita in corso magari meno quando dovevano giocare dall'inizio in questo noi dobbiamo migliorare e crescere ma non abbiamo tanto tempo per quello è una domanda che tu mi fai ma è un invito che io faccio costantemente e continuamente a tutti i ragazzi che non partono dall'inizio che a volte si pensa che non si possa determinare ma vado a vedere squadre importanti che hanno avuto la fortuna di chi è subentrato penso al Cagliari squadre che hanno avuto giocatori che sono subentrati c'è una statistica di tante squadre che entrano e subentrano in questo senso qua noi sì possiamo fare sicuramente se Gelli disponibile sì Garitano lo è sempre stato magari è stato utilizzato a fase alterna un po' meno è rientrato domenica dopo un po' di tempo però Luca Garitano è un ragazzo che si allena sempre a mille è eccezionale sotto tutti i punti di vista è disponibile tornando un po' a quella domanda di prima è uno di quelli che quando lo metti anche a partita in corso sai di avere un giocatore affidabile normale che poi dipende dalla partita quando entri in base al risultato in base a quello che ti serve in quel momento e va un pochino più alla ricerca delle caratteristiche di certi giocatori che vanno un po' a modificare la gara in corso per questo però Gelli credo che mi stia facendo magari più su Garitano che Gelli paradossalmente ha quasi sempre giocato e che lui nell'ultimo periodo è stato un po' più infortunato perlomeno è rientrato si è rifatto male da oggi è a disposizione perché questa settimana non ha fatto tutti gli elementi pieni però è un giocatore che sicuramente sarà disponibile per domani e ha dimostrato di essere un giocatore utile sotto tutti i punti di vista io credo che nel percorso di ogni calciatore io non ho mai visto giocatori o annate straordinarie che facciano 38 partite a livello altissimo per quello questo up and down questo sale e scendi che c'è dal punto di vista delle prestazioni è la normalità bisogna dire che è un giocatore è uno di quei giocatori che noi abbiamo dentro la rosa che può determinare la partita da un momento all'altro quello che gli manca è che nelle partite meno brillanti sue non è riuscito magari a determinare in un'azione da gol o in un assist importante però credo che sia quello che tiene sempre l'attenzione altissima nelle difese avversarie per quello che può creare per la giocata di fino per la qualità sia nell'assist che nell'andare a cercare il gol però tornando prima l'indice del gol è importante uguale a noi ci servono a noi i gol ci servono lo dimostra anche la partita di domenica scorsa che magari abbiamo rischiato anche di perdere nel finale per quello è importante anche tornare a fare gol mantenendo questa solidità difensiva che abbiamo mostrato per più tempo durante la gara rispetto magari ad altre si conclude così la conferenza di Eusebio di Francesco ha detto solo che ha visto che Napoli si sta riprendendo almeno dall'ultima partita che ha visto contro il Monza effettivamente è così a Monza cioè praticamente secondo te si è arrurata e speriamo che questi ragazzi abbiano capito qual è il filo del discorso l'ingranaggio giusto e quali sono la molla che deve scattare per avere quel quid in più perché è un fattore emotivo io la dico di sempre a capo a capo la parte tutto da qua capite non è che la testa può stare in un posto e il corpo in un'altra parte no il corpo agisce in funzione da quello che gli arriva da qua da quello che sente qua nel cuore dove sta il cuore qua qua vedete questo è il nostro cuore il nostro cuore è questo comunque io per domenica mangio mangio dopo via qua sta ancora un po' ancora un po' di tussi un po' di raffreddore quando passa sta primavera vanno una cimaletta primavera comunque che stavo dicendo mi faccio distrarre facilmente io comunque volevo dire solo che niente ci può essere anche a parte che sicuramente ci sarà una quinta squadra in champion italiana una quinta in Italia italiana quindi tra l'altro chi è al sesto posto e mi riferisco a Roma a Atalanta c'è la possibilità che se vincono l'Europa League sentite bene se vincono l'Europa League ci possiamo andare noi cioè si si guadagna un sesto posto capite anche la sesta classifica può andare in Champions League capite noi dobbiamo fare tutto per tutto per entrare almeno al quinto posto ecco poi il sesto posto non ci traessi l'importante lasciami sta cosa mi sta facendo vabbè è comunque un solo motto forza Napoli tre volte forza Napoli e forza Napoli ragazzi mi racconti chi avrà la fortuna di assistere allo stadio al maradone alla partita date tutto date tutto vabbè il vostro flusso il vostro flusso magnetico come la gente la spinta del maradone vai forza Napoli sempre mi raccomando forza Napoli ciao domani ciao 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 Grazie a tutti.